Operazione antiterrorismo della polizia in un centro immigrati di località Pontericcio a Giuliano. Una cinquantina di agenti insieme ai reparti antisommossa hanno effettuato delle perquisizioni all'interno della struttura. Nel mirino migranti non in regola e senza documenti. Controlli anche alla struttura per verificare se era in regola con tutte le documentazioni e se idonea ad ospitare gli oltre 100 stranieri. Sottoposta a sequestro la cucina del centro di accoglienza in quanto non aveva ancora ricevuto il via libera da parte dell'Asda e per questo che sono stati apposti i sigilli. I gestori del centro saranno multati con un'ammenda di oltre 2.000 euro. I controlli sono stati disposti dopo il ritrovamento di una testa di maiale e scritte pro Putin e anti-Isis dinanzi all'ingresso di una moschea al centro storico della città. Perquisizione anche in alcuni circoli per risalire agli autori del ride.